Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì ci aspetta una giornata ancora una volta molto stabile e solleggiata e molto mite da nord a sud. In alcune regioni al settentrione assaporeremo le prime vere giornate estive con temperature a ridosso dei 29-30 gradi. Il tempo sarà stabile anche al centro e al sud eccezione fatta per qualche rapido temporale pomeridiano a ridosso dei monti. In Abruzzo un venerdì molto stabile e tardo primaverile con cieli sereni ovunque in qualche nokua addensamento a ridosso dell'Apennino avremo qualche rapidissimo scroscio di pioggia però nulla di particolarmente rilevante altrove dominerà il sole. Temperature stazionarie massime fino a 26 gradi sulle coste alle basse quote minime anch'esse stazionarie tra i 9 e i 15 gradi. I venti saranno deboli a regime di brezza. Con questo è tutto grazie per averci seguito a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni realizziamo i tuoi sogni